Buon mercoledì 11 maggio, ben trovati a questa nuova puntata di Mattino insieme, mi accompagnano durante i prossimi 60 minuti in regia Alessio Canelli e Nicola De Franceschi. Riflettori puntati in questa prima parte dentro la notizia su educazione finanziaria, ne parliamo con Matteo Migazzi, amministratore delegato di Pensplan Centrum S.P.A. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie dell'invito. E grazie a lei per aver accolto il nostro invito. Una premessa, amministratore delegato Migazzi, che cos'è Pensplan? Che cosa offre Pensplan? Allora, Pensplan è una Pensplan Centrum, è una società pubblica partecipata dalla regione Trentino Alto Adige e dalle due province autonome di Trento e Bolzano. È stata istituita con legge regionale nel 1997 e il compito principale è quello di promuovere la previdenza complementare e quindi attraverso diversi tipi di attività. In primo luogo promuoviamo appunto la previdenza complementare attraverso attività di formazione, di sensibilizzazione dei cittadini e di consulenza personalizzata, anche rivolta proprio alle situazioni specifiche dei singoli cittadini. E lo facciamo attraverso i due contact center, che sono a Trento e a Bolzano, e attraverso una fitta rete di sportelli Infopoint, che sono 129 sull'intero territorio regionale, dove i cittadini possono rivolgersi per avere tutte le informazioni in relazione alla previdenza complementare e anche alla loro situazione specifica. Poi dall'altro lato forniamo i servizi amministrativi contabili ai fondi pensione regionali, che sono partner di Pensplan, che sono quattro, sono Pensplan Profi, il fondo Raiffeisen, il fondo Plurifonds, che è il fondo di Itas, e il fondo Laborfonds. E noi sostanzialmente gestiamo la posizione dell'aderente dal momento della sua iscrizione al fondo pensione al momento del pensionamento e quindi all'erogazione della prestazione in forma di capitale o in forma di rendita. Quindi abbiamo una gestione completa della posizione dell'aderente da tutti i punti di vista, contabile, amministrativo e in relazione alla posizione specifica. Quindi una realtà importante, diffusa, capillarmente sul territorio. Che riscontri avete dalla nascita, dalla Costituzione? Ma allora i riscontri sono assolutamente positivi, soprattutto in termini di adesioni, nel senso che noi abbiamo i dati aggiornati a fine marzo, sono 285 mila aderenti in regione, che rappresentano più o meno il 50% dell'intera popolazione, diciamo in età lavorativa, ed è una media molto più alta rispetto a quella nazionale, che è più o meno il 30-33%. Quindi un primo riscontro è proprio nei termini delle adesioni. Abbiamo più di 32 mila aziende gestite, quindi datori di lavoro, e abbiamo numerosi contatti presso appunto i nostri sportelli, presso i nostri servizi, che si aggirano circa sui 30 mila contatti presso l'Info Point e i Conta Center, e più di 100 mila contatti, se contiamo i contatti telefonici, la richiesta di informazione. Quindi una presenza molto forte e la testimonianza che è un progetto che funziona anche in relazione proprio alle adesioni, che sono abbondantemente superiori rispetto alla media nazionale. Tra le attività, tra i servizi offerti da Pensplan Centrum, SPA, c'è anche quello appunto della formazione. I riflettori sono puntati anche sull'educazione finanziaria, quanto mai importante in questo contesto storico. Offrite un incontro il secondo a Trento, proprio questo pomeriggio alle 18 presso il Grand Hotel Trento, appunto nel capoluogo. L'obiettivo si parla di educazione finanziaria, ospite d'eccezione è Massimo Tononi, che sicuramente non ha bisogno di presentazioni, banchiere, presidente del Banco BPM, già presidente, ricordiamo, di Cassa Depositi e Prestiti del Monte dei Paschi di Siena, e segretario dal 2006 al 2008, sottosegretario del Ministero dell'Economia. Quindi davvero un ospite, un relatore d'eccellenza, che offrirà una lezione sull'importanza di investire in educazione finanziaria, è così? Sì, innanzitutto faremo questo evento oggi alle ore 18 al Grand Hotel Trento, dove appunto interverrà il dottor Tononi, che con la sua autorevolezza e la sua esperienza professionale contribuirà a riflettere con noi sul tema dell'educazione finanziaria e farà proprio educazione finanziaria in loco. Farà una lezione, diciamo, dove spiegherà un po' quelle che sono le tendenze, come stanno andando i mercati, la situazione previdenziale, quindi uno spaccato complessivo di quella che è la situazione attuale, per capire anche quanto è importante avere questi strumenti di alfabetizzazione finanziaria. E l'educazione finanziaria, noi facciamo questo evento proprio per presentare il nostro impegno in questo ambito, che è un impegno che deriva da una modifica legislativa del 2018 regionale, che attribuisce appunto a Pensplan, anche il compito di promuovere l'alfabetizzazione finanziaria. Quindi da una prima fase in cui, tra virgolette, il nostro compito era circoscritto alla previdenza complementare, adesso c'è un'estensione anche all'educazione finanziaria, di cui la previdenza complementare è uno degli aspetti. E educazione finanziaria, quindi, che è un compito istituzionale attribuito alla società, intesa come? Ecco, il nostro compito è anche quello di far capire che cos'è l'educazione finanziaria, perché spesso, anche dal punto di vista culturale, ci sono un po' delle idee, dei preconcetti. C'è chi la considera un sinonimo di trading, c'è chi la considera, non so, un'importanza di una dimensione materiale al dimensione del denaro, una cessione quasi negativa dell'educazione finanziaria. C'è anche una sorta di resistenza mentale. Esattamente. C'è questa resistenza proprio che deriva dal concepire l'educazione finanziaria in questi termini. In realtà l'educazione finanziaria è un qualcosa di molto diverso. A me piace sempre ricordare le parole del Presidente della Repubblica l'anno scorso alla giornata mondiale del risparmio, dove disse che l'educazione finanziaria è un diritto di cittadinanza, cioè un diritto fondamentale delle persone, perché noi siamo in un periodo complesso, che è caratterizzato come vediamo da dinamiche molto complesse. Basti pensare che dal punto di vista previdenziale la differenza che ci sarà nelle generazioni attuali tra la pensione e l'ultimo stipendio ammonterà quasi al 50%. Poi c'è un tema di grande quantità di risparmio non investito e tenuto sui conti correnti, c'è un tema di inflazione, cioè c'è un sistema economico finanziario che sta evolvendo in una direzione molto complicata e complessa e quindi gli cittadini credo debbano avere quegli strumenti di base per comprendere queste dinamiche e fare le giuste scelte. Quindi educazione finanziaria vuol dire pianificazione consapevole delle proprie risorse per garantirci un futuro più sereno e avere quegli strumenti in grado di affrontare eventuali situazioni di difficoltà future. Esercitare quindi, come parafrasando il presidente Mattarella, appunto esercitare questo diritto di cittadinanza per quanto riguarda l'educazione finanziaria attraverso un linguaggio diciamo che arriva a tutti e per preparare fondamentale appunto l'educazione finanziaria per preparare il nostro futuro, non solo quello delle generazioni più giovani. Senta, le statistiche dal vostro osservatorio che cosa ci dicono? Il nostro paese proprio su questo fronte dell'educazione finanziaria, alfabetizzazione finanziaria, come è messo? Siamo un po' in ritardo? Siamo messi purtroppo molto male, siamo tra gli ultimi tra i paesi oxe a livello di alfabetizzazione finanziaria e questo è un dato che sicuramente deve farci riflettere. Pensi che ci sono degli studi che dimostrano che ci sono delle differenze in termini di alfabetizzazione finanziaria già all'età di 15 anni tra i ragazzi in relazione alla differenza di genere o alla differenza di classe sociale. Quindi noi scontiamo una differenza in termini di alfabetizzazione finanziaria già a quell'età. Questo è un dato che secondo me deve farci riflettere in maniera, come dire, importante e che dimostra quanto sia importante intervenire fin da giovani nelle scuole, perché le scuole sono in un contesto privilegiato dove si riescono ad azzerare queste differenze sociali di genere, dove gli studenti giustamente sono tutti... Certo, anche perché il rischio è che alla fine i privilegi siano poi per poche persone. Ha citato anche il mondo femminile, diciamo che per motivi anche storici ma anche culturali, purtroppo il mondo femminile ha subito discriminazioni anche proprio sul fronte finanziario. pensiamo appunto anche al gap pensionistico. Come superarlo? Ci sono degli strumenti? Ma guardi, innanzitutto come dice lei c'è un tema anche che riguarda il gap di genere in termini di pensioni. Vasti pensare che le pensioni, diciamo, del maschio rispetto alle pensioni delle donne ammontano quasi il 50% in più di media, diciamo tra il 35 e il 50% a seconda del settore. Nel settore pubblico c'è un po' meno differenza, però c'è una differenza molto importante e che ovviamente deriva dalla differenza poi di stipendio nel corso della vita lavorativa e quant'altro. Quindi c'è un gap che è un tema veramente cogente, che secondo me riguarda un po' l'organizzazione generale della società e che comunque dobbiamo affrontare anche questo livello, perché le donne sono quelle più sfavorite da questa situazione. E quelle anche comunque nel, diciamo che si occupano anche della gestione del bilancio familiare, domestico. Sì, è un paradosso anche perché mi lasci dire che io sono anche un padre e vedo insomma la complessità anche di quel tipo di impegno, quindi è veramente dal punto di vista poi personale credo anche motivo di tristezza vedere questa situazione, ma al di là di questo che è più una considerazione personale, io credo che il modo, ecco la previdenza complementare è uno di quegli strumenti che si possono utilizzare. E noi ad esempio in provincia e in regione, grazie agli strumenti regionali e provinciali, abbiamo alcuni interventi che cercano di ridurre questo gap, come ad esempio sostenendo le donne che si assentano dal lavoro per la cura e l'assistenza dei figli, oppure per l'assistenza delle persone non autosufficienti. Noi lì prevediamo degli interventi a favore appunto di queste donne per il periodo in cui si assentano dal lavoro con dei contributi che versiamo noi al loro posto per la previdenza complementare, quindi sostituiamo il versamento della donna che in quel momento si sta occupando della cura dei figli, della cura delle persone non autosufficienti, poi abbiamo degli interventi anche a favore ad esempio delle casalinghe con certe condizioni e quindi cerchiamo in qualche modo di compensare questa differenza. E quindi di colmare dove appunto, quindi non bastano, un contributo molto importante quello di Pensplan perché sicuramente ci sono degli incentivi, degli interventi, una tantum dello Stato, ma non basta, serve proprio questa educazione finanziaria, quindi per toccare i temi quando si parla di educazione finanziaria come ci sta spiegando Matteo Migazzi, amministratore di Pensplan, si parla di assicurazioni, si parla di fondo pensionistico, previdenziale, di gestione e programmazione delle proprie risorse familiari, è davvero importante e si inizia proprio sui banchi di scuola anche per cercare di colmare e superare quelle che sono anche le diseguaglianze sociali, il famoso anche ascensore sociale Migazzi. Sì, quando si parla di educazione finanziaria si parla di previdenza, ma si parla di assicurazioni, si parla di aspetti finanziari, si parla di successioni, sono tutti i vari settori, i vari ambiti che interessano l'educazione finanziaria e è importante che i cittadini abbiano gli strumenti adeguati per potersi orientare in questi ambiti e adottare le scelte giuste che dipendono dalla situazione specifica ma che sono utili per tutti, non sono ambiti destinati solo a chi ha certi tipi di professioni, certi tipi di redditi o altro, sono strumenti adatti a tutti che ovviamente devono essere utilizzati in relazione alla situazione specifica, quindi l'educazione finanziaria è proprio l'insieme della pianificazione delle proprie risorse nei diversi ambiti, proprio per garantirsi una prospettiva di vita più serena e consapevole e sfruttare quegli strumenti in maniera consapevole. Siamo in chiusura della nostra conversazione, quindi da oltre 25 anni Pensplan Centro NSPA promuove lo sviluppo anche della welfare complementare ma non solo sul territorio a livello capillare diffuso, è importante anche per il benessere della collettività, quindi diciamo anche da un punto di vista sociale. Ecco qui vediamo appunto questa mappa, appunto questa grafica dove possono trovare i nostri cittadini e i cittadini e tutti gli infopoint. Ricordiamo ancora questa sera, questo pomeriggio alle ore 18 al Grand Hotel Trento, occorre prenotarsi migazzi? Sì, basta andare sul sito di Pensplan www.pensplan.com e ci si può registrare e è possibile seguire l'evento però anche in streaming. Ricordiamo ancora per chi ci stesse ascoltando in questo momento per avere ulteriori informazioni, Pensplan appunto si trova il sito? Sì, si trova il sito e poi ci sono i due contact center a Trento e Bolzano, a Bolzano in via della mostra, a Trento in piazza Silvio Pellico e oppure i 129 infopoint sul territorio che sono abbastanza capillari sull'intera regione. Grazie ancora Matteo Migazzi, amministratore delegato di Pensplan Centrum SPA nel prossimo servizio che in qualche modo ci prepara anche a obiettivo ambiente. Parleremo di un ricco calendario fino al 14 di maggio di appuntamenti dedicati proprio a tematiche ambientali connesse all'outdoor e anche al turismo sul territorio della riserva di Biosfera Alpi Ledrensi Iudicaria. Ce ne parla Gabriele Buselli.